Perché tutte queste leggi hanno dei nomi, il Mattarellum, il Rosatellum, questa legge avrà un nome bellissimo, immediato. Inciucium. L'inciucium, è certo, perché prima di andare a votare, ogni partito dirà la sua posizione. Posizioni inconciliabili, guarda l'esempio di adesso, si ritroveranno in Parlamento e non avendo nessuna di queste forze, un premio di maggioranza o la possibilità di governare, dovranno necessariamente coniugare il verbo inciuciare. Cosa significa coniugare il verbo inciuciare? Significa che all'atto pratico, sulle grandi e piccole e piccolissime questioni, dalle grandissime ILVA all'Italia, modello di crescita, politica industriale, politica internazionale, i partiti avranno posizioni distanti o ossimore, l'uno rispetto all'altro, e succede quello che succede adesso, che è un Paese che stenta su ogni materia a prendere una posizione, peccato che questo Paese ha bisogno di stabilità e governabilità e oltretutto con la legge che si vuole introdurre si dice, eh ma così daremo spazio a tutti, mica vero, perché metti lo sbarramento al 5% e chi non ce l'ha deve avere su tre regioni, su alcune circoscrizioni, un risultato che si avvicina a questa soglia e cosa porta in Parlamento? Uno barra due rappresentanti, che vanno a frischiettare. Insomma, un numero esiguo molto piccolo. No, vanno a frischiettare e non vanno a fare nulla, ma soprattutto, cioè, le alleanze contro natura si creeranno in Parlamento e soprattutto si violenteranno i programmi con i quali i partiti si presentano alle elezioni. Allora, sei stato molto chiaro dal tuo punto di vista, ovviamente, dove ben tornato al senatore...